Funerale di Virnalisi, 20 dicembre 2014. Ecco c'è il figlio che sta salutando e ha ringraziato. Non si aspettava, per quanto fosse amata la madre, un affetto così grande, un abbraccio così grande. Sì c'è la bara, il ferro, il caro funebre che porterà via Virnalisi, Virnapesci, ha sottolineato il figlio in realtà. Siamo ai Perioli, piazza Ungheria, ho parlato anche con Mosso il presidente del CONI Malagò, quasi piangendo. Vediamo attori, attrici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.